Top 10 Passiamo ora a Top Video, il video da voi caricato su www.liscio.uno più visto nella scorsa settimana. Il video dell'orchestra New Tropical con Bugiardo Amore. Ora scopriamo chi si trova nelle prime 5 posizioni. 5 Enrico Iglesias con Duele Corazon. 4 Alvaro Soler con Sofia. Al terzo posto c'è... Lara Agostini con Lento. Al secondo posto c'è... Mario Biskin con Macarena. Primo posto per... DJ Berta con... Vuoi rivedere la classifica? Vai su www.liscio.uno. Vi ricordiamo anche il nostro canale YouTube, i social network Facebook, Twitter o Instagram. E vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao! 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 Grazie a tutti